i dogon contatto alieno spoiler no comunque dicevo non so se sono riuscito a indicarlo con sufficiente chiarezza dove si trova l'area in cui si trovano i dogon una popolazione africana studiata diverse volte che ho incontrato gli europei diverse volte allora l'interpretazione paleo astronautica nasce da questo libro il mistero di sirio di robert temple la prima edizione è del 1976 poi va bene edizione italiana è successiva alla seconda edizione inglese i titoli lasciano molto a desiderare allora in basso vedete un estratto di peter colosimo terra senza tempo la posizione delle stelle delle stelle fissata nelle carte celesti riperita dagli archeologi russi corrisponde infine a quella di migliaia di anni o sono le mappe stesse d'altro canto confermono che figli del nilo possedevano conoscenze astronomiche straordinarie cosa che già sapevamo bisogna ecco qui come con hankock no sono molto vaghi nel dire conoscenze astronomiche straordinarie ma che vuol dire ma anche il fatto che le mappe stellari risulterebbero di migliaia di anni fa e per forza c'è la civiltà egizia si è estinta duemila anni fa almeno per cui mi sembra anche normale che le mappe stellari risalgano a migliaia di anni fa comunque per dire lo zodiaco di vendera di epoca ellenistica quindi è relativamente recente sicuramente molto recente dal punto di vista della storia egizia non sapevamo però che agli egizi era nota l'esistenza della compagna oscura di sirio curioso è il fatto che una delle tribù dell'africa centrale quella di dogons non ignora tale particolare poi vedremo che non è così che i suoi predecessori l'abbiano appreso degli antichissimi egizi allora segnatevi sta frase non è improbabile qui temple fa un piccolo riassunto della della mitologia dei dogon così come la prende poi vedremo dal primo antropologo griol insomma ci sarebbe questa nascita di pianeti poi lui parla vedete all'inizio il secondo paragrafo dell'atterraggio dei nom sulla nostra terra che era chiamato il giorno del pesce e il pianeta da cui venne nel sistema sirio è conosciuto come la terra pura del giorno del pesce non la nostra terra impura poi dice che così nacque il pianeta giove venere marte eccetera temple parla di questa mitologia di questa creazione del mondo e anche dell'essere umano con degli esseri con una coppia primordiale androgino che poi avrebbe generato il resto qui non l'ho messo però a un certo punto c'è anche una volpe pallida ma che a parte della mitologia che gioca un ruolo giocherebbe o meglio un ruolo fondamentale nella mitologia di dopo soffermiamo un attimo su robert temple punto l'autore del primo libro che abbiamo visto non è che niente niente è stato un ispiratore di hancock perché questo libro è uscito appunto negli anni settanta e lui parla di questi civilizzatori anfibi e prende oannes che ricordiamo già nel essere una delle fisse di hankock no hankock ho mostrato nella live dedicata a lui che si trova in bolivia c'era questa stato in bolivia le cui gambe meno a parte inferiore sembrava avere delle squame e lo dice ma questo è evidentemente oannes che vediamo qui raffigurato poi nella live ho fatto vedere che in realtà non somigliano per niente nella statua boliviana con oannes per cui però l'idea di questi civilizzatori metà uomini metà pesce che è un io finora l'avevo trovata solo in hancock in realtà è più antica e relativamente parlando e risale a robert temple a proposito il segreto di sì noi stiamo parlando di il mistero di sirio da non confondere con il segreto di sirio da sirius connection che è uscito nel 96 di murray hope che tra l'altro me l'hanno anche regalato quando stavo in fissa con questa roba qua non l'ho mai neanche aperto anzi ne approfitto per leggere adesso però così dando una schiata fugace all'indice si parla di sirio la stella binaria ovviamente chiaramente si rifà evidentemente robert temple però parla di alta magia parla di scienza simbologia tecnica terapeutica il potere del leone insomma e mi sembra che vada sul sull'esoterico andante proprio sul magico senza mezzi termini infatti poi ho visto al volo la biografia di questa murray hope ed era una wiccan quindi quindi non siamo semplicemente nell'ambito della psodostoria siamo nell'ambito dell'esoterismo è ancora una volta ennesimo esempio del fatto che la ricerca della psodostoria è secondo me finalizzata per lo più la ricerca di conoscenze segrete in questo caso nel caso di murray hope di conoscenze magiche nel caso della paleoastronautica si va a ricercare in realtà eventuali conoscenze di prove dell'esistenza di alieni insomma la psodostoria è che oserei dire che non è quasi mai fine a se stessa ma è sempre finalizzata alla ricerca di qualcos'altro di non ordinario ho chiuso questa parentesi il libro di temple che peraltro era un astronomo è molto molto documentato è molto ben documentato però è pieno di roba anche qui direi esoterica non come murray hope non parla di magia però è molto più alla pendolo di foucault ma tanto perché parla di energie di energie terrestri come appunto il pendolo di foucault di luoghi magici e fa una serie di collegamenti tra varie tradizioni mette in mezzo qui vedete l'oracolo di delfi c'è questa appendice allora calcolando che il libro in teoria dovrebbe parlare di dogon però c'è un capitolo dedicato all'egitto un capitolo dedicato alla mesopotamia insomma fa una serie di giri poi c'è un appendice sul significato della e a delfi e adesso non so se lo io ho solo evidenziato questa parte nella in tutta l'appendice perché a sto punto il libro di temple meriterebbe una live a parte ma il fatto che delfi è il secondo centro discendente dell'ottava geodetica e questo è simboleggiato dalla seconda vocale e quindi queste cose vanno bene insieme poi sotto come vedete prende il nome divino secondo l'ebraismo e ci mette notare che la e è la seconda lettera però ci aggiunge anche delle vocali che non ci sono insomma fa una serie di operazioni che fanno tanto esoterismo alla pendolo di Foucault per intenderci per cui sì è un libro effettivamente molto curioso questo qui molto denso di informazioni però appunto fa questi collegamenti che lasciano un po' desiderare ecco quindi dei difetti di temple oltre a quello di ragionare assalti comunque dicevo l'altro grosso errore che ha fatto temple è fidarsi dell'opera del primo antropologo che ha scritto sui dogon o dogon che dir si voglia cioè Marcel Griolo che era un antropologo meglio etnografo francese autore prolifico autore di più di cento pubblicazioni tra libri e articoli dei dogon ha detto che avrebbero questo mito della creazione in cui c'era questa coppia androgina e via poi c'era insomma tutta una cosmogonia e un'antropogonia e i suoi studi ebbero un enorme successo perché era stato tra i primi tra l'altro a fare uno studio non il primo in assoluto però fare uno studio così approfondito diciamo o meglio uno studio sul campo di una popolazione africana rivelando tali mitologie su cui poi sono stati scritti libri di antropologia di psicologia di psicanalisi c'è chi ha interpretato in modo freudiano la mitologia dogon insomma ebbe un eco molto molto vasta ovviamente poi non potevano mancare oltre gli storici delle religioni ma i paleoastronautici quindi intanto distinguiamo che griolo non ha mai detto non ha mai parlato di alieni questa cosa non era ovvia neanche a quello che è andato a parlarci di persona per cui se uno ha 60 anni di distanza va a dire così già il dubbio mi viene poi vediamo che in realtà anche quello che dice insomma non è affidabilissimo però però anche se fosse letteralmente vero tutto quello che ha detto griolo anche se griolo fosse andato con un registratore con una videocamera a registrare lui stesso non ha mai parlato di alieni questo va andrebbe sottolineato quindi evidentemente nei loro miti non c'è nessuno che dice che di essere arrivato da lì già partiamo così ecco la fonte di griolo era questo signore qui questo ogotemeli che era un anziano che era rimasto cieco da un malfunzionamento di un'arma da fuoco in una battuta alla caccia questo tenetelo presente perché poi lo ritroveremo e incontrò griolo diversi anni dopo la sua richiesta iniziale vi anticipo che uno dei motivi di scetticismo verso l'opera di griolo è il fatto che questo qui ha avuto tutto il tempo per prepararsi una sua storiella da poi dare in pasto all'uomo bianco insomma al nazareno come si descrive griolo stesso in questo libro questo libro queste conversazioni con ogotemeli ne ha scritti diversi è il resoconto di 33 giorni di conversazioni con lui in cui l'informatore come si dice in gergo antropologico l'informatore gli ha raccontato ha risposto alle sue domande insomma gli ha esposto un po' la mitologia del suo popolo questo studio ebbe una vasta eco anche perché era uno dei primi studi di quel genere però è usato nei manuali di antropologia come caso particolare come posso dire proprio perché è stato tra i primi a usare questo metodo dell'usare un informatore a cui chiedere aspetti della cultura che si sta studiando quindi l'informatore è chiaramente uno dentro e si pone come interfaccia tra la cultura che si sta studiando o la comunità che si sta studiando e l'antropologo o l'etnografo meglio ancora questo ha nel corso dei decenni ha suscitato una serie di riflessioni su quanto sia affidabile in generale il ruolo dell'informatore quanto l'informatore sia sincero nel rispondere quanto per esempio per motivi culturali non voglia offendere l'etnografo e quindi che ne sappiamo se non sta dicendo certe cose solo perché sa che l'etnografo si aspetta questo tipo di informazioni quindi c'è anche questo oppure che ne sappiamo se l'informatore non stia prendendo in giro l'etnografo stesso questa è una delle critiche che vedremo che sono state fatte proprio a Griol da un altro etnografo che è stato lì per 11 anni presso i Dogon e che quindi non parlava da lontano a proposito un'altra delle critiche che Griol non ha mai fatto un anno intero andava e tornava andava e tornava andava e tornava dalla Francia al Mali mentre poi vedremo altri sono stati 11 anni 10 anni di continuo quindi io così senza saper leggere e scrivere di antropologia se dovessi scegliere tra due testimonianze di cui uno è stato massimo il periodo più lungo che si è fatto di continuo è stato otto mesi e un altro c'è stato 11 anni di continuo così a naso tenderei a fidarmi più del secondo a naso poi bisogna vedere da quello che dici bisognerebbe poi andare a verificare le affermazioni di ciascuno però così a parità di prove così tenderei a credere più al secondo però nel frattempo è diventato un caso di studi non tanto quello che hanno detto ma tutta la storia è diventato un caso di studi nell'antropologia infatti vedete qua c'è scritto già comincia questo paragrafo con un chiaro esempio di vecchia antropologia e la descrizione di che Marcel Griol fece della cultura Dogon nel Mali nel in uno dei libri che ha scritto su di esso su questa cultura in cui Griol ha ottenuto informazioni e descrizioni di caratteristiche salienti della cultura Dogon grazie a conversazioni che aveva avuto con un informatore eccezionale l'anziano Ogo Temmeli Ogo Temmeli è diventato un nome ben conosciuto in antropologia al punto che è diventato l'epitome dell'informatore la persona che descrive fenomeni e tratti della sua cultura rendendola comprensibile al ricercatore comunque Ogo Temmeli non è semplicemente un informatore secondo Griolo Ogo Temmeli ha capito l'interesse degli studi etnologici dei bianchi tra virgolette e ha capito e ha aspettato 15 anni per l'occasione di rivelare la sua conoscenza a loro e questo lo dice lo stesso Griol neanche i suoi critici senza dubbio l'anziano Dogon è riuscito a sistematizzare il sistema del mondo la visione del mondo dei Dogon e a renderla intelligibile a quelli che la stavano guardando da fuori da lontano sia il ricercatore e sia quelli che avrebbero letto poi i suoi resoconti etnografici comunque alcune questioni sorgono alcune questioni chiave in questo aspetto soprattutto sorgono dalle dalla sovra personalità di Ogo Temmeli cosiddetta cioè che che ruolo ha giocato Ogo Temmeli nel processo di questa traslazio culturale di questo trasferimento di conoscenze quanto era soggettiva o al contrario condivisa a livello collettivo le rappresentazioni le descrizioni e le sistemi sistematizzazioni di Ogo Temmeli dei tratti culturali dei Dogon fino a che punto la sua descrizione può essere considerata vera e sincera a una a una presunta patrimonio collettivo di presunto patrimonio di conoscenza collettiva insomma ci si stanno ci si chiede quanto sia davvero rappresentativo della cultura di Ogo questo informatore e il ruolo che aveva quest'ultimo nella trasmissione di queste conoscenze o presunte tali ah ho dimenticato di mettere la citazione allora questo qui è preso da una rivista online di antropologia comunque anche se questa rivista non fosse comunque al di là di tutto mi sembra che faccia delle osservazioni condivisibilissime chiaramente sono sorte delle critiche allo studio di Griot diverse questa io posto solo quella che mi ha colpito di più però ce ne sono altre che ho messo in bibliografia alla fine anche precedenti a questa che parla di mistificazione bella e buona però ho scelto questa qui perché questo è uno di quegli etnografi di cui vi dicevo prima che ha passato più di dieci anni di continuo insieme ai Dogon quindi le critiche che ha fatto allo studio di Griot sono quantomeno nel merito allora alle questioni vedete la colonna a destra secondo paragrafo dove dice è uno studio un ristudio dei Dogon del Mali che presento qui e poi dopo i due punti ci sono delle domande i testi prodotti da Griot dipingono una società che è riconoscibile al ricercatore offrono dei chiarimenti per il pensiero Dogon oppure forniscono una guida utile per la riproduzione della cultura Dogon le ricostruzioni no aspetta i costrutti culturali di Griot sono riconoscibili nel campo sia all'antropologo sia ai Dogon nel senso che oppure quanto ha interpretato lui quanto era presente il suo filtro culturale nelle domande che poneva o nell'interpretare le risposte che gli arrivavano i Dogon quando i Dogon si trovavano di fronte ai elementi dei testi di Griot li riconoscevano come parte significativa del loro pensiero e del loro modo di vita le mie risposte a queste domande saranno più o meno negative a seconda in quale parte il lavoro di Griot è in questione per cui lui è fortemente critico nei confronti di Griot questo è uno studio del 91 intanto lui ha notato che ci sono delle contraddizioni all'interno di quello che Griot stesso scrive nei suoi libri cioè più che una sola mitologia sembrano essercene almeno due separate però mischiate l'una con l'altra cioè comunque ci sono delle contraddizioni e la cosa che mi ha colpito di più e che mi ha spinto volendo a fare questo video è che nessuno neanche all'interno del cerchio degli informatori di Griot ha mai sentito o capito che Sirio era una stella doppia cioè lui è andato lì e ha detto beh allora com'è sta storia della stella doppia di Sirio che è una stella doppia dopo si sono guardati e hanno detto eh quale stella doppia e soprattutto i Dogon non conoscevano nessun mito della creazione vera e propria nessuna né la versione di Ogo Temmeli né quella della della Volpe Pallida quindi uno dei libri di Griot è riconoscibile dagli informatori suoi di Van Beck quest'olandese la figura di Ogo in uno dei libri di Griot è sconosciuta la Volpe come animale divinatorio non ha nessuna posizione privilegiata nella mitologia che Sirio sia una stella doppia è sconosciuto l'astronomia ha una importanza minima nella religione la società e la società Dogon non ha nessun segreto iniziatorio che vada oltre insomma il padroneggiare completamente i testi pubblicamente noti oppure il punto quattro il concetto cruciale di Niama la forza vitale è irrilevante nella religione Dogon cosa che invece la Griot sosteneva e la società Dogon punto 5 non è neanche così religiosa come la dipingeva Griot per cui Van Beck è andato lì e ha scoperto un mondo completamente diverso da come lo dipingeva Griot lo stesso Griot parla di numerologia molto complicata lui dice ma io non ho trovato niente i testi di Griot sono pieni di numeri leggo a sinistra come se i Dogon fossero meticolosamente cabalistici calcolando ogni immossa in realtà alcuni numeri si funzionano come simboli i principali sono il 3 maschio e il 4 femmine ma altri e altri numeri sono rilevanti sono pertinenti nei loro contesti tipo 8 e 12 ma il simbolismo del 22 più 2 che Griot pone come cruciale non è rintracciabile neanche il 66 dell'altro libro di Griot la volpe pallida in breve nessun sistema propriamente detto di numeri di un simbolismo numerico di numeri correlati si ritrova nell'opera di Griot oppure a destra tra i concetti analitici usati da Griot il termine Niyama è un caso speciale secondo Griot significa forza vitale in modo parallelo al melanesiano mana che è quello che poi è entrato nel gergo anche dei giochi di ruolo dei videogiochi quindi il concetto di mana è un concetto delle popolazioni della melanesia e secondo me se si va a vedere non è neanche così come viene dipinto nei nostri nelle nostre opere fantasy ma va bene i suoi scritti più antichi tra virgolette i suoi primi scritti esprimono la convinzione che un concetto simile al mana sia rilevante appare in uno dei suoi libri e diventa più sostanziale negli scritti successivi così sia negli articoli come anche nei libri il carattere problematico del termine è notato nella da Calame Griol nel da Calame Griol che è la figlia nel suo lei è la figlia di Griol Calame Griol poi la rivedremo nel dizionario Dogon francese morfologicamente però la parola non appartiene al lessico Dogon cioè non c'è nella lingua Dogon e potrebbe avere origini di un'altra popolazione non so quanto vicina cioè Griol ha scritto più volte su questo concetto presunto dei Dogon la figlia lo ha inserito in un dizionario Dogon francese e il termine non c'è nella lingua Dogon la lingua Dogon ha una parola simile Ngawa che significa inquinato ammuffito marcio rovinato che implica appunto pericolo e insomma decadenza aspe però nonostante la definizione di Griol di Niyama include un aspetto di pericolo è comunque positivo si presume sia positivo qualcosa che viene ricercata una forza che dà la vita i miei informatori Dogon invece non lo riconoscono nella forma o nella definizione data nei testi per loro un concetto un concetto parallelo potrebbe essere panga forza una parola anche usata per la forza fisica specialmente muscolare comunque come un concetto analitico la nozione di panga non è importante per la religione Dogon gli altari quando sono usati per lungo tempo raccolgono un po' di panga ma non è il fine del sacrificio piuttosto è una una seccatura anche una ragione per abbandonare un particolare altare e quindi in riassunto per riassumere la letnografia dei Dogon prodotta da Griolo dopo la seconda guerra mondiale non può essere presa così non può essere presa così come è un prodotto dell'interazione complessa tra un ricercatore dalla forte volontà e una situazione coloniale un corpo di informatori creativo intelligente è una cultura con un bias di cortesia è una forte tendenza a incorporare degli elementi esterni quindi loro ce l'hanno proprio nella loro cultura i Dogon quello di non dico a secondare però di non cercare il conflitto ma il concetto di armonia viene detto altrove è fondamentale nella cultura Dogon per cui è documentato il fatto che loro lo facevano anche per accomodare le aspettative o presunte tali degli informatori la tendenza alla creazione di conoscenza profonda in modo sempre crescente si mostra molto più verso la fine della vita di Griol con una quantità di Dogonità decrescente nei testi allora lui ha diviso l'attività di Griol in quattro periodi quello prima di conoscere l'informatore Ogote e Meli poi prima di scrivere dopo aver scritto uno dei due libri dopo aver scritto l'altro e poi dopo Griol questa si è l'attività dell'elettrografia dei Dogon in generale quindi per lui la prima parte del lavoro di Griol è valida mentre tutto ciò che ha scritto dopo la seconda guerra mondiale secondo lui non può essere preso per buono l'ultima questione è fino a che punto Griol è riuscito a essere inconsapevole dei problemi mostrati qui è difficile capire come qualcuno che aveva avvertito in modo così eloquente gli informatori è diventato poi fosse così inconsapevole o ingenuo si è rimasto così ingenuo riguardo a quanto succedeva tra lui e i suoi informatori poi l'articolo che si trova online presenta diverse diversi commenti all'articolo stesso io ho selezionato questo perché anche lui ha trascorso da questo autore questo Jackie Bujoo questa Jackie Bujoo anche lui o anche lei ha trascorso dieci anni tra i Dogon mentre Van Beck ne ha trascorsi undici quindi ho preso questo qua e dice che anche lui è arrivato alle stesse sue conclusioni per cui l'ho preso come una testimonianza attendibile poi ce ne sono altre pure insomma il quadro non era molto molto positivo per Griol ci sono state delle risposte e le critiche una quella in alto a destra di uno studioso belga sempre nella stessa rivista nello stesso anno è uscito un numero successivo la rivista che si chiama Current Anthropology appunto quindi c'è stata questa critica di questo studioso che sinceramente non è entrato nel merito se no non più di tanto ci sono delle forti obiezioni che ha fatto Fanback che sono rimaste da tutte ignorate e nello stesso numero però in un fascicolo successivo dello stesso anno in cui ha pubblicato Fanback e poi anche De Hoish si è espressa anche la figlia di Griol anche lei guarda caso antropologa allora io ho evidenziato una critica che mi sembra giusta una controcritica non è chiaro come Fanback abbia condotto le sue di ricerche quando critica Griol i metodi di Griol non dice nulla dei suoi effettivamente ha ragione io non ho visto una premessa metodologica fatta da Fanback nel suo articolo come ha chiesto come ha posto queste questioni effettivamente non ha non ha tutti i torti chi erano questi informatori non lo dice quanti erano non lo dice per cui no su questo devo dare ragione a Genevieve Calam Griol e poi ho preso solo la parte finale dell'articolo in cui dice che il padre non aveva nessuna conoscenza astronomica per cui non sapeva neanche lui stesso dell'esistenza di Sirio A e Sirio B per cui lei dice che lei parla impropriamente di satellite di Sirio non è così però vabbè è un'altra stella però vabbè era completamente ignorante della sua esistenza fino a che i Dogon non gli hanno parlato di un compagno di Sirio a quel punto poi ha consultato gli astronomi dell'osservatore di Parigi e li ha trovati altrettanto sorpresi quanto lui allora qui brevemente la controrisposta di di Van Beck lui parla dell'incontro con la coautrice di uno dei libri di Griol che dice che quando sono lui glielo mandò glielo fece leggere poi si fissarono un appuntamento dice quando sono arrivato al suo appuntamento a Parigi mi ha ricevuto in modo grazioso come sempre in modo non grazioso in modo gentile stava aspettando una pubblicazione eccetera eccetera però poi gliela ha mandato allora mi sono preparato secondo paragrafo per una lunga critica ma lei aveva solo una domanda perché pubblicarlo c'è zero risposte nel merito delle sue critiche zero ma perché lo deve pubblicare lui ha risposto vabbè ma è il dovere di un accademico pubblicare cioè è il diritto dovere di un accademico pubblicare i propri studi questo questo mi ha colpito questo mi ha colpito perché è stato interessante per me mettermi da un punto di vista di uno che non è del mestiere vedere le argomentazioni da una parte le argomentazioni dall'altra e farmi un'idea e io le contro le argomentazioni di fanback sono state proprio degli schiaffi forti le risposte io non ne ho vista una nel merito su tre la figlia ha risposto solo in modo marginale la figlia di griolla ha risposto solo in modo marginale cioè ha fatto delle critiche quelle mi sono sembrate sensate ma ma non sono delle critiche ai vari schiaffoni che fanback ha tirato al padre per esempio una delle una di quelle perché ha usato solo un informatore almeno in questa fase poi cioè secondo me da qui in poi non secondo me capisco perché da quello che dice fanback da questo periodo in poi non è più tanto affidabile griolla perché tu giustamente ti devi interfacciare mi sembra sensato interfacciarsi con più informatori non solo con uno però da qui in poi il griolla ha cominciato a costruire un mito su un su una questione che appunto che non è evidentemente condivisa cioè noi che ne sappiamo se è quello che gli ha raccontato Ogo Temmeli sia davvero patrimonio culturale dei degli dei Dogon e non siano invece sue invenzioni oppure cose che lui ha sentito da altri prima di lui e qui ritorno alla questione della sua cecità ricordo che lui era cieco per un incidente di caccia perché un fucile ha mal funzionato quindi come ce li sono arrivati i fucili quindi Griolla non è stato mica il primo ad essere in contatto con lui quindi evidentemente i contatti già c'erano non sappiamo neanche da quanto tempo ma c'erano quindi che ne sappiamo se se Ogo Temmeli non abbia davvero non dico preso in giro letteralmente per quanto Fanback fa diversi esempi di Dogon che letteralmente prendono in giro gli etnografi europei letteralmente hanno anche creato una loro maschera di un bianco che prende appunti ce l'hanno proprio come l'hanno incorporato in uno dei loro riti però la domanda la domanda resta ed è grossa cioè alla fine per tornare a noi tutta la paleoastronautica si basa veramente sulla fiducia che Griolla ha dato a un informatore solo la paleoastronautica ancora una volta si basa sul nulla e quindi torniamo alla paleoastronautica è una questione di metodo tanto per cambiare perché l'errore ah tra l'altro ecco l'errore principale da parte dei sostenitori di un'origine alternativa delle presunte conoscenze dei Dogon è fare questo tipo di ragionamento ricordate Colosimo che diceva non è improbabile quindi si parte da non è impossibile ed è uguale a non è improbabile che è uguale a è possibile che è uguale a è probabile che è uguale a è certo è andata sicuramente così e chi non la pensa è così è chiuso di mente o in malafede cioè loro confondono l'essere possibile o non essere impossibile con ok è andata così esempio classico è quando si dice no ma io faccio finta che è e poi però si vede che non fa tanto finta ci si dimentica che si sta facendo finta è un classico della paleoastronautica prendere le ipotesi e poi dimenticarsi strada facendo che quelle sono ipotesi e prenderle come dati assodati una vale anche per la pseudostoria in generale come Hancock e quelle ipotesi sulla sulla presunta forma del continente antartico sotto i ghiacci è diventata certezza man mano che Hancock non ne parlava perché a un certo punto dice noi abbiamo visto abbiamo dimostrato no non hai dimostrato niente l'hai ipotizzato al massimo non l'hai dimostrato per cui sì tutta la faccenda dei Dogon mostra come si passi dal non è impossibile al è sicuramente così e poi ci aggiungono il carico e se tu non ci credi sei chiuso di mente si aggiunge una componente personale per cui io l'ho capito perché io sono intelligente e tu invece non lo capisci perché sei scemo il fatto che possa essere una tua impressione non ti sfiora anche se fosse vera tutta la storia raccontata dall'informatore di Griol eccetera anche se fosse vera comunque stiamo parlando di un ragionamento del genere per cui da un'ipotesi ah ma se quella se si parlasse di una stella doppia ripeto che già questo è ipotetico già questo è ipotetico se poi a quello si aggiunge questo tipo di ragionamento che dal non è impossibile si finisce a dire no è andata così ci si perde strada facendo insomma stiamo parlando veramente di roba veramente inconsistente e gli astronautici se davvero vogliono riscrivere la storia dovranno fare meglio di così che invece aggrapparsi veramente agli specchi allora conclusioni Temple mi sembra per quanto non condivida nulla mi sembra molto onesto che è cosa più unica che rara nel mondo della pseudostoria ha un approccio evidentemente fenomenologico per non dire esoterico tirando in ballo su meri babilonesi greci energie telluriche resunte reti di siti roba che tra l'altro non c'entrano niente con i Dogon l'altro grosso errore è stato quello di fidarsi troppo della testimonianza di Griollo quest'ultimo ha forse sovrainterpretato ciò che ha sentito vorrei dire dai Dogon ma in realtà da ciò che ha sentito da lui dal suo informatore principale che peraltro non sembra essere rappresentativa del reale patrimonio culturale dei Dogon e poi tanto per cambiare nella parola astronautica tutti quelli che sono venuti dopo Temple hanno preso per buono ciò che ha detto Temple e l'hanno ripetuto hanno dato per buono che i Dogon ormai parlano di Sirio di questa della doppia quindi anche se Bogotemeli e Griollo fossero affidabili al 100% sarebbe strano anche prendiamo per vero tutta la versione come la raccontano i pari astronautici prendiamo per un attimo per vero a me comunque sembra strano ipotizzare che gli alieni siano venuti e abbiano detto ah guardate che quella lì lì c'è una stella sono due se ne siano andati senza lasciare nessun'altra traccia ma anche nella cultura stessa dei Dogon senza lasciare nessun'altra informazione cioè gli hanno detto solo quello e basta e poi l'altra cosa strana visto che appunto Van Beck è andato di nuovo ha trovato informazioni contraddittorie a me sembra strano anche prendendo per vero ripeto tutto quello che dicono i pari astronautici sembra strano ipotizzare che i Dogon abbiano mantenuto intatto la loro tradizione di questa conoscenza di questa stella doppia e poi l'abbiano persa negli ultimi decenni nel giro di pochi decenni o si siano confusi per decenni insomma comunque non ha senso i pari astronautici dovrebbero comunque spiegare questo anche ripeto prendendo per vero cose che abbiamo visto essere non esattamente il massimo della certezza sì come ho già detto poi il fatto stesso che Agotemmeli fosse cieco per colpa di un'arma da fuoco rimostra che evidentemente c'erano già stati ricontatti con gli europei e le risposte alle critiche di Van Beck non mi sembrano convincenti e certamente sono contraddittori dato che Griole in primis si avvalse di un solo informatore quasi cosa che la figlia stessa di Griole col testa Van Beck tra l'altro le contraddizioni sono peraltro all'interno dell'opera dello stesso Griole e in ogni caso il collegamento con la paleoastronautica rimane ipotetico non è un dato di fatto anche se ripeto se fosse tutto vero quello che hanno detto Agotemmeli e Griole non sarebbe comunque la prova di una presunta di un presunto contatto alieno perché loro stessi non dice lo stesso Agotemmeli non dice che questa conoscenza viene da da Sirio e anche se lo dicesse non sarebbe comunque una prova di niente abbiamo visto essere una persona non esattamente affidabilissima quella dell'ipotesi extraterrestre è un'ipotesi di Temple che è stata poi data per certo da quelli dopo di lui idea che è stata un'ipotesi che è stata un'ipotesi è un'ipotesi di un'ipotesi Grazie.